Rebecca Garber Revisorek Dopo tre anni di direzione dello storico festival LGBTQ torinese e dopo quasi dieci a realizzare, pensare, scrivere film, mi sono chiesta come fosse cambiato il mio rapporto con il cinema. Ero passata da gestire un singolo film a gestire la programmazione di quasi un centinaio. Il film è corpo, diceva Pasolini, il film nasce e si incontra col proprio pubblico. Il film è una riflessione, è un prodotto del pensiero che è limitato all'interno di una realtà sociale ma allo stesso tempo è potenziato. Il film nell'incontro col proprio pubblico crea riflessioni, crea nuovi concetti. Secondo le teorie de losiane, si crea in noi, di fronte alle immagini in movimento, una sorta di automa spirituale. Le immagini in movimento investono la nostra corteccia cerebrale e creano nuovi processi mentali e intellettivi. Siamo di fronte alla possibilità di creare nuovi concetti, una sorta di shock intellettuale. Bene, un festival è un luogo in cui è possibile vedere centinaia di film, ci sono migliaia di spettatori e quindi è una fucina inequivocabilmente di nuovo pensiero, un luogo di creazione e di conoscenza condivisa e organica. Un festival ha quindi una potenzialità enorme rispetto alla transizione nella riflessione del pensiero umano. Ma un festival di sua natura intersezionale, ovvero LGBTQI, che tipo di potenzialità ha? Che cosa vuol dire intersezionale? Questa è la prima domanda. Si usa molto spesso nel panorama culturale e politico, però in maniera indebita a volte. Nell'89 Kimberly Crenshaw lo introduce all'interno dei suoi studi, attivista e fondatrice dell'African American Policy Forum per la Columbia University. Intersezionalità è la copresenza identitaria per le donne di colore di una discriminazione di doppio livello, ovvero sessista e razzista al contempo. Queste donne sono inserite all'interno di una sorta di intersection, di incrocio e sono deboli in quell'incrocio. Questa parola è stata usata all'interno di altri contesti, naturalmente, per le teorie queer, che sono naturalmente le teorie che sono relative a tutto ciò che è centrico, tutto ciò che è fuori alla norma codificata, egemonica in qualche modo, ma anche negli studi di genere, negli studi femministi. L'utilizzo di questa parola è molto importante perché ci racconta la compresenza di differenti discriminazioni che agiscono tutti insieme, in maniera molteplice. Ma a volte, in queste intersezioni, in questi luoghi di debolezza, dove ci sono identità che non sono forse riconosciute, o a volte non sono nemmeno riconoscibili, vi è una forza. Le terre di mezzo sono luoghi liberi dai vincoli, e sono luoghi molto più potenti perché liberi dai vincoli. In questa marea di immaginari intersezionali, nelle pieghe della fantasia, forse possiamo trovare nuove visioni, forse possiamo trovare nuove utopie. Carlo Ginzburg diceva nel Formaggio ai vermi, la storia normalmente viene raccontata dai vincitori, le minoranze reali e culturali non hanno spazio. Che cosa vuol dire allora un festival che potenzialmente mostra dei film che sono fatti da soggetti normalmente non rappresentati, e liberi dalla distribuzione classica e dalla produzione, meccanismi che a volte li costringono? Un festival di questo genere ci propone visioni non colonizzate. I festival internazionali, da Canna, Berlino, Venezia, mostrano dei luoghi in cui è possibile avere immaginari non convenzionali, possibilità di andare oltre con la fantasia. Ma la visione, le visioni cinematografiche, da chi sono date normalmente? Qual è la, da chi è data la visione che normalmente noi fruiamo? Donne audiovisivo della DEA dà dei dati sconcertanti. Intanto la sottorapresentazione del cinema femminile è solo una parte della sottorapresentazione del genere femminile nella società, che non è presente nel top management dei settori privati, non è presente nei CDA naturalmente delle amministrazioni pubbliche, non è presente nella ricerca scientifica. E inoltre, ci dice l'UNESCO, il report UNESCO, che la creatività non è un genere neutro. La creatività, in quanto genere femminile o maschile, e la sua discriminazione sono parte di una disparità più generale. Tanto è vero che il Global Gender Gap del 2016 indica l'Italia al 127esimo posto su 144 per disparità salariale tra donne e uomini. Inoltre a questo dobbiamo aggiungere anche i dati della mappa dell'intolleranza, che è un progetto dell'Osservatorio dei nuovi diritti italiani. In questo progetto possiamo osservare alcuni dati molto importanti. In questi dati si evidenzia come, attraverso la geolocalizzazione e l'estrazione di tweet, è possibile vedere, secondo sei gruppi differenti, composti da donne, migranti, omosessuali, ebrei, musulmani, e diversamente abili, come si accumulano tweet d'odio contro di loro. Si è balzati di quattro punti percentuali dal 2017 al 2018, dal 32,45% al 36,45%. L'odio online è molto eteropatriarcale. Inoltre possiamo anche riportare i dati dell'European Women Network. L'88% dei film a finanziamento pubblico sono diretti da uomini. Il 79% a finanziamento pubblico per la RAI sono diretti da uomini. Solo il 9,2% dei film che arrivano al cinema e sono distribuiti nelle sale è diretto da donne. Questi dati ci raccontano un panorama davvero sconcertante. E ci si chiede dove si può trovare dei nuovi spiragli, nuove visioni, dove possono trovare voci le minoranze. Ecco, io vi ho portato una serie di film, di visioni, che a mio avviso raccontano in maniera più generale nuovi spiragli in qualche modo visivi, nuove utopie. In The Nightingale di Jennifer Kent, che è stato presentato nell'ultimo festival di Venezia, possiamo vedere Claire, giovane detenuta irlandese, che cammina verso le cucine dove sta scontando la propria pena, portare tra le braccia il proprio bambino. Gli sta cantando una nenia con dolcezza. A un certo punto, però, con un secco stacco di montaggio, vediamo un coltello apparire. E in questo momento, la regista ci chiede in maniera risoluta se sei pronto a un ribaltamento di campo? Da una Madonna rassicurante e materna a Grazia, che si trasforma in mascolinità e violenza. Nightingale è una rape e revenge, che è stato appunto presentato nel festival di Venezia, che ha ottenuto un enorme successo. È un racconto di un riscatto sociale, in cui Claire, una giovane detenuta, si allea, dopo aver perso tutto, il proprio bambino, il proprio marito e anche la propria dignità, perché è stata assoprata ripetutamente da un crudelissimo ufficiale inglese, si allea con un nativo e in questo percorso cercano una sorta di riscatto sociale verso altri lidi. Nella loro naività, Billy, il nativo, e Claire, la protagonista, la giovane detenuta irlandese, nella loro intersezionalità della lotta, nella loro unione tra gli oppressi, stanno lottando contro una visione che non è la loro. Vi ho portato anche un altro esempio, quello di Erika Last. Erika Last è una giovane regista che produce film porno, indie. Nel 77, nata a Stoccolma, decide di trasferirsi a Barcellona, dopo gli studi in scienze politiche, decide di occuparsi di pornografia. Lo fa cercando di scardinare i cliché della pornografia classica. E lo fa attraverso una visione post-femminista. Lo fa attraverso l'audiovisivo, perché l'inconscio agisce più della parola scritta, come ci può dire l'homo videns di Sartori, per esempio. Non si hanno resistenze di fronte alle immagini, non ci sono filtri. L'immagine arriva in maniera molto potente. Erika Last decide di non utilizzare quelli che sono i cliché della pornografia tradizionale e non lavora sulla coazione meccanica a ripetere dei corpi. Lavora su soggetti che non sono più oggetti. E soprattutto su desideri non mercificati. Corpi non mercificati. Ci fa vedere la possibilità di un desiderio sovversivo e soprattutto una gerarchia in cui il piacere maschile non è al primo posto. Un altro film che vi volevo assolutamente portare è l'opera prima di Sebastiano Mauri, interpretata dal marito di Sebastiano, Filippo Timi. In questo film, una casalinga frustrata cerca di uscire dalla propria gabbia d'oro e lo fa nel momento in cui, ad un certo punto, scopre di non essere più una donna, ma un uomo. Scoprendo questa metamorfosi inaspettata, decide di, in qualche modo, fuggire e lo fa dopo essersi innamorata della propria migliore amica. Insomma, in questo modo, Sebastiano Mauri decide di creare una sorta di spazio narrativo che è anche l'inconscio e gioca con una lente di ingrandimento sulla società italiana, raccontandoci in maniera completamente diversa e con i codici del New Queer Cinema, del maestro Todd Haynes e del melodramma, la possibilità di un dispositivo di fuga dalla realtà. In questa narrazione che diventa inconscio, è possibile, naturalmente, ritrovare una nuova unione tra il femminile e il maschile e, in qualche modo, ridisegnare trame di desideri socialmente ammissibili. Queste tre visioni ci raccontano di tre possibilità, tre ricerche, grazie all'arte cinematografica, che, in qualche modo, rendono possibile nuove utopie, radici di visioni future, appunto. In questo spazio estetico e sensuale, il genere viene messo in crisi e, mettendo in crisi il genere, mettiamo in crisi anche la società istituita rigidamente su questa impostazione. Questi registi, con una forte cultura femminista intersezionale, ci mostrano chiaramente una via e lo fanno attraverso film che, come abbiamo detto prima, ci aiutano a creare nuovi concetti. Creando nuovi concetti abbiamo nuovi orizzonti e questi nuovi orizzonti, seppur lontani, sono comunque delle traiettorie. Transitare verso il futuro è sicuramente difficile e molto spesso ci rendiamo conto che parti della società non sono pronte ad affrontare questa transizione, come dimostrano i diritti LGBTQI, i diritti dei migranti, naturalmente, ma anche delle donne e degli uomini transessuali. Non siamo ancora pronti. Forse, in parte, perché il cinema, con grande forza e con lungimiranza, ci sta già mostrando la via. Grazie.